Mi si stacca la pelle di dosso, per tutto l'amore che provare posso, per le operazioni di calcolo, e per quanto spendere posso questo mese, quanto amare non posso più permettermelo. Digito per cercarlo, Google è l'oracolo. Per queste intelligenze artificiali, che non credono più a niente, che se parlo di libertà sono solo un umano. Non voglio fare palestra, non trading online, voglio vivere, solo vivere. E se parlo di libertà, sono solo un umano. I cartoni animati mi hanno insegnato le parole, per descrivere il mondo e per avere curiosità, per volare, per urlare, liberi a volto scoperto. I vestiti servono a ripararsi dal gelo del vostro cuore mattutino. Ed ho studiato allo specchio tutte le espressioni del mio volto coperto. Ed ora sono pronto ad affrontare il mondo a volto scoperto. Ma le genti di Pirandello continuano a capirlo. E guardando quella foto, non saprei mai chi e cosa c'era dietro la macchina. Una bufera. Grazie. 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 Grazie.